Ciao ragazzi, allora oggi andremo a fare del pesce, quindi abbiamo del tonno rosso che andremo a fare con della crema di zucca e delle noci che stiamo già tostando nella padella con un po' di sale. Quindi dopo aver tostato le nostre noci andiamo a tagliare la nostra zucca in maniera molto piccola. In maniera molto piccola, così non ci metteremo molto a cucinare, andiamo a soffridere con un filo di olio extravergine e dell'aglio, sale e pepe. Quindi dopo aver cotto la nostra zucca andremo a togliere l'aglio, poi magari chi piace l'aglio lo può lasciare e andiamo a frullare il tutto. Allora ok, abbiamo frullato la nostra zucca, quindi noi ce l'abbiamo, la zucca ce l'abbiamo, adesso andiamo a cucinare il tonno rosso. Quindi l'andremo a marinare con olio all'aglio, sale e pepe, l'abbiamo asciugato molto bene. Ok, quindi padella calda e andremo a dare una leggera scottata. Ok, ed è quello qui. Quindi, crema di zucca, tonno rosso e noci. Come dico sempre, uomo della cucinzola che chiaro usiamo.